Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 Vivo di questa meta! This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin, let's begin Allora intanto cosa succede dalle parti del palco? Oh abbiamo, diciamo vabbè non voglio fare preferenze però un grande, uno che io stimo lui è Giovanni Cucinella che fino ad ora è sempre venuto a farci sentire i suoi brani molto belli oggi ce lo canterà in diretta dal vivo il brano che ci canta Benvenuto, buonanotte, buongiorno dipende dai punti di vista come stai Giovanni? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene io ne approfitto per ringraziarti perché tu sei stato come rappresentante di By Night Roma sei venuto ad ascoltare la presentazione del mio album alla FNAC insomma quindi lo ringrazio bravo, bravo non è vero cioè se vai è lui che mi sta leccando me cioè non è che io lecco lui lo hanno beccato pure tra la gente c'è una foto pubblicata su internet come prova quindi vero, vero spider pork lui non era però alla fine il cd io l'ho regalato quindi questo va detto anche per la terza volta perché gli assunti sarei fatti rubare me l'hanno rubato non è colpa mia non è colpa mia ma che sai a dire? è vero, è vero me l'hanno rubato di Luciano e Vanessa lui che lecca lui o lui che lecca lui adesso direi una cosa come fate ad essere in diretta con noi? allora come fate? per esempio Giovanni come fate? chiamato l'800 039 036 ho mandato tutto il materiale bravissimo quindi anche voi potete essere in diretta su By Night Roma come 800 039 036 oppure Valerosso 320 8264 861 mi stai parlando sopra, vedi? oppure ancora mandate una bella mail a redazione chiocciolabynightroma.com povero, non aveva il microfono non è che io voglio togliergli la parola e ce l'ha giocare, è vero dunque, presentiamolo però oramai ci siamo dammo voce quindi ai talenti siamo arrivati ormai quasi alla fine di questa diretta sono le 2 e 26 minuti 29, il mio segna 26 che devo fare? è il quarzo lui è lo presentiamo come talento di By Night Roma presenta la mia canzone, mia preferita Giovanni Cuccinella ci canta negli occhi di un'altra ma mi piace che devo fare? Giovanni, Giovanni l'ha detto c'è la ribellione se ci hai fatto caso l'ha detto per ogni canzone che ha cantato ogni artista ho imparato a conoscerlo ho imparato a conoscerlo io sono sincero io posso dire una cosa solamente che lui è venuto è vero a vedere la tua presentazione tu sei veramente bravo questo lo confermiamo anche noi ma sappi che lui era lì solo per scroccare il cd ma sai qual è il problema? che gli altri due se ne rivenduti non è vero perfetto comunque ne ho un altro se vi serve 10 euro ve lo vendo io da un nero ricordate un che penso quindi ricordiamo sempre che compiamo e aiutiamo la buona musica italiana insomma non per forza tutti devono uscire da X Factor amici di Maria dei Filippi e quant'altro ci mancherebbe e allora andiamo a sentire uno che non è uscito da X Factor ovvero Giovanni Cuccinella che ci canta il suo inedito il preferito di Paolo Roberto negli occhi di un'altra Giovanni Radio Radio by Night Roma Radio by Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana Cuccinella E' ferito dentro e sento solamente il freddo ma solo non so proprio come poter ripartire ogni notte poi ti cerco ti cerco pure dentro al letto ora fra le mani stringo soltanto ricordo di noi di noi sembra stupido a parole non ho voglia di dormire per paura di sognare di averti vicino perché dopo il mio risveglio perché dopo il mio risveglio io capisco che non voglio ritrovarmi tutti i giorni abbracciato a un cuscino ma non ti cercherò non voglio più fare l'errore adesso sei tu amore amore decidi e fai tutto quello che vuoi io resto qui e cerco ma guardo negli occhi di un'altra non trovo te quanta rabbia quei tuoi occhi mi hanno fatto innamorare senza troppa tenerezza mi fanno morire e capisco dove sbaglio chiusa chiave in ciò che voglio sono solo un prigioniero che non vuol fuggire se non ritorni tu non riesco più a fare l'amore adesso sei tu amore decidi e fai tutto quello che vuoi io resto qui e cerco ma guardo negli occhi di un'altra non trovo te non trovo te inutile cercare di capire che cosa ho sbagliato quando è stato che ti ho perso ti è mai capitato che un pensiero ti attraversa e ti parla di me di me hai già raccontato quelle storie che inventavo ridevi lo giuro ma che scemo ti facevo sentire al sicuro dentro un sogno dentro un sogno ormai isolato quel mondo che avevo inventato per te adesso sei tu amore decidi e fai tutto quello che vuoi io resto qui e cerco e cerco ma guardo negli occhi di un'altra non trovo te e così ti cerco ogni notte in un sogno e li sto con te ed era Giovanni Cucinella grazie era Giovanni Cucinella che ci ha cattato uno dei suoi inediti perché dirlo che hai un album hai detto prima che l'hai presentato alla FNAC il mio secondo album si intitola La notte complice è uscito da circa un mese distribuito da Eter insomma è un'ottima opportunità perché ho avuto l'opportunità di collaborare con gente grandissima nel mondo della musica come Fabrizio Pausini papà di Laura o il Fabio Dipinto che è il mio produttore insomma con Latini Duro che ha avuto grandissime esperienze nell'ambito degli emergenti e molto attento ai giovani hai capito insomma è stata una bella insomma stai facendoti la strada sì assolutamente è giusto fare come dici tu non per forza bisogna uscire dai reality immediatamente ma è giusto fare passo dopo passo io lo dico sempre non è necessario ma assolutamente lavorate lavorate cercate di lavorare insomma riferimenti guarda Paolo Roberto è lì per te devo soltanto sapere proprio perché si fanno piccoli passi su piccoli passi cosa stai facendo in questo momento cioè meglio quali sono i tuoi impegni futuri dove magari ti possiamo sentire dal vivo oppure trovarti beh proprio in questi giorni stiamo chiudendo un po' tutta la situazione del tour estivo che vedrà molte date ho appena saputo insomma che sono stato inserito in dei tour anche abbastanza importanti che ricoprono un po' tutta l'Italia quindi per tutte le date e tutto quanto penso che in questa settimana uscirà un po' tutto il calendario quindi si potrà trovare sul sito internet che è giovannicucinella.com oppure sul facebook facebook.com slash giovannicucinellaofficial poi tutti i canali insomma perfetto ci danno il segno ci danno il segno è scoccato il gong Giovanni io ti saluto grazie mille per essere stato nostro ospite grazie a voi buonanotte a tutti buongiorno a tutti Radio Radio Bi-Night Roma 104.5 Grazie a tutti Grazie a tutti